La Serbia ci sta provando. Viste le sue ambizioni di entrare nell'Unione Europea, deve assolutamente raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento previsti dalle autorità europee. Ma Belgrado è ancora l'unica capitale del vecchio continente a scaricare le sue acque refroi direttamente nel Danubio. Secondo i pescatori della zona, tutto ciò sta continuando a distruggere l'ecosistema del fiume, oltre naturalmente alla loro attività di pesca. Mladenjovic è un pescatore di lungo corso. Abbiamo ucciso tutti i nostri fiumi, uccideremo anche questo. Il Danubio è un fiume molto forte e potente, ha già sopportato tanto inquinamento, ma non ce la fa più. Prima aveva una sua costa vera e propria, ora non è rimasto più nulla. Nel mezzo il Danubio era profondo 3 metri, una volta erano 20 metri. Il governo serbo si è impegnato a costruire nuovi impianti di trattamento delle acque di scarico, ma non è certo che saranno operativi in tempo per il 2025 anno in cui la Serbia spera di entrare nell'Unione Europea. Del bel Danubio blu qui non c'è traccia, il colore è assai diverso.